Inizio sono tre aree, drive traffic al website, che era quello di prima, in questo caso è spingere verso il download delle app, in questo caso c'è l'app di Just Eat, installa, noi possiamo anche in questo caso costruire un percorso per fare in modo che le aziende paghino in funzione dell'installazione, fino addirittura al click dell'app installata, quindi io posso mettere come obiettivo l'installazione oppure ok dopo che l'ho installata e l'ho sul mio smartphone l'ho aperta per la prima volta.